Sono particolarmente orgogliosa quest'anno di come è andato l'International Award. Abbiamo avuto dei partner importantissimi, per cui il più importante è sicuramente il Future Food Institute, il cui apporto è stato fondamentale. Fondamentale perché ha dato quell'impulso che è necessario, quell'impulso internazionale e necessario affinché questo premio potesse avere anche un massimo circuito di esposizione. Sono sicura che la nostra partnership continuerà nel tempo, è stata fructuosa il Future Food Institute. È composto di persone estremamente preparate, estremamente laboriose e quindi è nostra intenzione continuare su questa strada. Grazie a tutti.